Se posso chiederlo, come è stato lasciare la sua elevata posizione materiale e come ha capito poi di potersi fidare e abbandonare a Prabhupada? Allora, in questa questione stiamo chiedendo, come è stato per voi lasciare la vostra posizione materiale e accettare l'ordere di Prabhupada? Vedete? Io sono andato nel posto dove la gente va per divertirsi, per godere dei sensi. Io sono stato in America e la notte dormivo. E mi è arrivata la misericordia durante la notte, io non volevo condividere. E la mattina ho preso la decisione. E c'era mio figlio e gli ho detto, io voglio prendere Sannyasi, voglio rinunciare a tutto. Perché ero, dice, ma raggio ero attaccato troppo e volevo tanto bene agli altri. Che lui non mi ha proprio creduto, insomma. E diceva, ma è impossibile che papà faccia una cosa del genere. E il figlio gli ha detto, quello che ti va di fare, fallo. E quindi gli ha detto, fammi, Maraj ha detto, fammi un servizio, comprami un biglietto per Miami. Voglio andare a vedere Paramadveti Maraj. E allora lui mi ha comprato il biglietto. In un'ora mi ha rimediato il biglietto. E il giorno dopo c'era il volo. E il giorno dopo c'era il volo. E Maraj è volato. E' stato sorprendente. E' stato sorprendente. Anzi, Paramadveti Maraj. E' sempre viaggio. Sorprendentemente Paramadveti Maraj era in Miami. Perché Paramadveti Maraj è sempre in giro. E mi ha detto, io voglio prendere il sannyas. E il guru Maraj gli ha detto, io voglio prendere il sannyas. E' stato così. Non credeva che sia possibile. In America io posso dire questo. E Paramadveti Maraj non ci credeva. No, non è possibile. E gli dice, ok, io ti darò, devi arrivare a Colombia. E allora Paramadveti Maraj dice, ok, bene, ora vieni con me in Colombia, di qua, di là. He wants time. One, fifteen days, one month. Ok, I will do this and that. Maybe I will come down to my... market where I go. Ah, ok. Quindi praticamente Paramadveti Maraj gli ha dato quindici giorni per capire se era una decisione seria, se magari questo ritornava... era una rinuncia finta e poi insomma ritornava nelle vecchie decisioni, insomma, nei vecchi passi. Quindi ci sono tre tipi di vairaghi a rinuncia. Anche le scimmie fanno una rinuncia. Loro... 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 Le scimmie rinunciano ai vestiti, rinunciano alla casa. Eh? Le scimmie rinuncia, non sono finta. Però, voi vedete che tipo di vita di famiglia fanno. Ogni 15 minuti, hanno bisogno di una, ogni po' hanno bisogno di... Oppure un'altra rinuncia è quella di quando uno va al funerale con un corpo morto, con un cadavere. e allora in quel momento quando uno è al funerale si dispera oh quanto è inutile questa vita oh quanto è inutile questa vita e poi dopo quando ritorna allora ricambia di nuovo è giusto o sbagliato? e un'altra si chiama Palgu Bairagya in Gaia c'è un po' di terra e se uno toglie un po' di terra esce fuori lì e in 10 minuti questo po' di terra perché questa terra si chiama e si chiama e poi di nuovo dopo un pochino l'acqua se ne va perché la terra la ricopre quindi tre tipi di Bairagya significa che ok in quel momento è uscita fuori dell'acqua però insomma la terra la ricopre subito e quindi appunto qualcuno credeva che questo fosse il tipo di Paramah Vettih Maraj credeva che questo fa così insomma una rinuncia momentanea ma è stata un'istruzione per me quindi in tre giorni gli ho portato un chadar orange e gli ho portato e quindi dopo tre giorni siccome questa era istruzione per Maraj in tre giorni Paramah Vettih Maraj comprò una scialle un chadar arancione e glielo mise addosso magari non c'è un'istruzione non c'è un'istruzione o qualcosa gli ho portato e gli ho portato e gli ho portato un vero vestito insomma gli mise uno chadar arancione un chadar arancione e ora disse adesso sei il mio sannyasi e io l'ho accettato e gli ho portato gli ho portato il tuo sannyasi è solo per pregiare perché io so che ti dirai molto bello e Paramah Vettih Maraj gli ha detto il tuo sannyasi è per predicare perché lo so che tu parlerai di Krishna molto bene perché tu hai una tradizione di famiglia e Sadhu Maraj gli ha risposto ma per la tua misericordia perché io non so niente e Sadhu Maraj dice io non ho mai fatto una pratica prima una preparazione diventare prima Brahmashari eccetera eccetera non ho fatto niente total in Maya total in attachment and come to the attachment but I don't know renouncement I am in attachment again from there to there this happened because of attachment not because of renouncement Maraj dice io praticamente ero totalmente in Maya e poi mi sono ritrovato a fare quest'altra cosa però ero attaccato prima e sono attaccato adesso semplicemente cambia il tipo di attaccamento però sono sempre attaccato non sono non mi intendo di rinunciare dice Attachment make me renounce è l'attaccamento che mi ha fatto rinunciare Attachment no renounce I no renounce dice io non so niente di rinuncia attaccamento quindi io mi comporto così e quindi io insomma mi sento in mezzo a fratelli sorelle figli magari non è buono però io mi relaziono in questo modo dice io non so come fare le cose in un altro modo dice vorrei ascoltare una spiegazione della Sbarup cos'è la forma dell'anima si può conoscere già da questa vita la forma della propria anima grazie un minuto una cosa mi sono dimenticato Maraj dice che si è dimenticato di dire una cosa che a proposito di Prabhupada Maraj dice che non è possibile venire a predicare nel mondo occidentale senza la misericordia di Prabhupada è per la sua misericordia che noi siamo tutti insieme e che stiamo scambiandoci discorsi su Krishna e dobbiamo anche però incrementare Sadum Maraj dice io ero molto fanatico quando ho preso l'iniziazione dal mio guru solo il mio guru solo il mio guru solo lui non volevo andare da nessun'altra parte un giorno il mio guru mi ha chiamato e mi ha detto lo conosci Prabhupada e Maraj ha risposto si ho sentito qualcosa di lui e il suo guru invece gli ha detto bene adesso tu vai e prendi le sue benedizioni e Maraj ha chiesto ma perché io sono con te e ti devo e il suo guru gli ha detto guarda che quello è Nityananda stesso apparso nella forma di Prabhupada e se non prendi la sua misericordia io non ti posso aiutare vai e prendi le sue benedizioni e se volete leggere dell'incontro di Sadhu Maraj con Shila Prabhupada c'è un libro che vendono nell'Iscone che è il libro di Mula Pracriti Shila Prabhupada l'amico di tutti molto bello 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 quindi io sento di dover dare i rispetti ti ha provocato e nel mondo dove va qualsiasi posto e in tutti i posti dove vado quando vado al Tempio quando vado al Tempio Iscone non ho mai problemi entro mi danno tanto Prasada mi vogliono bene quando vado in America Radhan e quando vado in America viaggio insieme a Radhan altri Maraj non ho mai avuto problemi Maraj dice ha tante relazioni di amicizia intime tutto dipende dalla sua misericordia